Ogni giorno c'è chi con grande pazienza attende che la natura dia i suoi frutti. Noi di Lasio Agricoltura lo sappiamo bene, per questo vi offriamo il meglio delle macchine agricole. Siamo concessionari per la Sardegna dei marchi Clas e Landini. Lasio Agricoltura SRL, a Serramanna e Oristano. Passione per la terra. Si chiama comunicazione non verbale. La comunicazione non verbale è tutta quella comunicazione che arriva anche se tu non dici a parole quello che sta avvenendo. Fa parte del tuo modo di porti, dell'atteggiamento che assumi in circostanze specifiche, nel essere in contatto comunque con gli altri. In questo caso il primo sistema che viene individuato sono i gesti, la mimica facciale, queste sono le cose fondamentali e praticamente finisce per essere molte volte più sincera di quanto è sincero quello che noi diciamo per strategia. Ecco, nella comunicazione non verbale voto a Mazzarri zero. Zero perché? Perché non può un allenatore, fin dall'inizio, ma per atteggiamento, per caratteristica, essere un allenatore che ad ogni errore i suoi giocatori si dispera, ad ogni errore si volta verso il pubblico a sottolineare l'errore, si mette le mani in testa e continua a comunicare in questo modo. Allora, noi potremmo dire, a seconda della squadra con cui hai a che fare, se sei una squadra forte caratterialmente, sa che sei fatto così e non ti prendi in considerazione, soprattutto se le cose vanno bene. Ma in una situazione in cui le cose vanno male e peraltro questo tipo di atteggiamento rischia di diventare un'assunzione di responsabilità o meglio un trasferimento di responsabilità, cioè io mi dispero perché chiedo di fare determinate cose e questi sono incapaci di farlo o non lo vogliono fare. Ecco, quello che si è verificato al Cagliari è questo, che sembra che tutte le colpe di quello che succede all'interno del campo sia colpa dei calciatori. Lo ha fatto in un primo momento anche il Presidente andando a rimproverare dentro lo spugliatoio i giocatori che si sarebbero impegnati poco e si sono ribellati a questo moltissimi calciatori perché mettiamo in discussione le nostre qualità ma non mettiamo in discussione la nostra professionalità. Se poi a questo si somma che anche l'allenatore, che forse in certi contesti dovrebbe fare l'esatto contrario, quello di assumere una posizione totalmente differente. Ecco, in piazze come Cagliari, con giocatori come quelli che è il Cagliari, con molti che tentano di fare il massimo per nascondere i propri difetti, non far passare mai un gesto di apprezzamento, non cercare di incoraggiare la squadra, non assumere una posizione che possa essere positiva nei loro confronti, è estremamente dannoso, è uno dei principali danni. Se questa squadra è andata a calare nel suo rendimento, secondo me questa componente è una componente determinante. Avevo molte perplessità quando c'è stato il cambio tra Semplici e Mazzarri e devo dire tutte legate a questo tipo di atteggiamento, non certo alle capacità tecnico-tattiche e via dicendo, perché conoscevo il Mazzarri che avevo visto in altre piazze e dissentivo sul suo modo di operare. Ecco, forse è giunto il momento in cui bisogna cercare di cambiare, ma non solamente chiedendolo agli altri, partendo proprio dai diretti protagonisti, allenatore e presidente per primi. Ogni giorno c'è chi con grande pazienza attende che la natura dia i suoi frutti. Noi di Lasio Agricoltura lo sappiamo bene, per questo vi offriamo il meglio delle macchine agricole. Siamo concessionari per la Sardegna dei marchi Klass e Landini. Lasio Agricoltura SRL. A Serramanna e Oristano. Passione per la terra.